Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia che tutti i giorni da lunedì al venerdì vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo Allora, come sentite dal mio tono di voce oggi dobbiamo andare, come spesso accade, un po' di fretta perché ci sono un sacco di notizie e saltiamo un po' di palo in frasca in realtà e vediamo di parlare di più cose diverse della fase 2 ad esempio, del debito pubblico, dei bambini, degli spostamenti in bicicletta, della transizione energetica dell'Australia e del documentario di Michael Moore, di nuovo, Planet of the Humans Prima di cominciare, come ogni giorno, vi ricordo che trovate sulla pagina rassegna stampa d'Italia che cambia.org tutte le notizie di cui parlo e anche molte altre di cui non faccio in tempo a parlare ma che sono altrettanto interessanti quindi andatevi a dare un'occhiata non so che ha detto, comunque Allora, sui giornali e sui media impazza in questi giorni il dibattito sulla fase 2 perciò mi sono fatto un giro per vedere come stanno gestendo queste fasi gli altri paesi europei dalla Francia, alla Spagna, alla Germania La sensazione è che in questa situazione caotica nessuno abbia realmente sotto controllo la situazione e che quindi si vada un po' per sperimentazioni, insomma, una fase abbastanza euristica come lo definiva ieri un articolo su Valigia Blu Ad esempio c'è la Germania che ha attuato durante tutto il periodo restrizioni molto meno pesanti rispetto agli altri paesi e che è stata anche la prima, il primo paese ad allentarlo ulteriormente in questo passaggio ma che ha visto negli ultimi due giorni il numero di contagi risalire quindi sembra voler tornare un po' sui suoi passi D'altra parte ci sono la Spagna e la Francia che invece hanno messo in piedi dei piani di ripartenza abbastanza rapidi mentre l'Italia sembra in assoluto forse quella più lenta e cauta nelle riaperture e questa cosa fra l'altro ha già sollevato diverse critiche da parte di sia vari analisti sia commercianti e persone direttamente interessate fra l'altro a complicare tutto questo ogni paese chiama le fasi un po' come gli pare nel senso che ho visto che in Spagna, cioè mentre noi entriamo nella fase 2 in Spagna stanno entrando nella fase 0 che però in realtà è già più avanti rispetto alla nostra fase 2 quindi è un gran casino ad ogni modo vi lascio un po' di link per approfondire su come i vari paesi stanno gestendo l'emergenza e noi intanto passiamo a parlare di altro perché nel frattempo Fitch, l'agenzia di rating, insomma una delle principali al mondo ha deciso di declassare il nostro debito pubblico a BBB- che sarebbe un gradino sopra quello che viene definito il debito spazzatura quello che viene considerato il debito spazzatura vuol dire che secondo Fitch sta diventando più probabile che l'Italia non riesca a ripagare il debito e questa cosa potrebbe innescare dei meccanismi in realtà che si autoalimentano e che sono abbastanza pericolosi perché tendenzialmente più il debito è considerato rischioso più devi garantire interessi alti per invogliare gli investitori a comprare i tuoi titoli di Stato ma gli interessi alti a loro volta fanno gonfiare il debito ancora di più e quindi diventa ancora più difficile ripagare il debito stesso ed è così che alla fine rischi di fare default veramente questa cosa rende abbastanza urgente misure di indebitamento comune dell'Unione Europea che potrebbero essere una buona soluzione tipo i famosi recovery bond che però non si sa esattamente quando arriveranno né in che forma se ne riparlerà probabilmente a giugno insomma in un prossimo incontro a giugno ma è una cosa di cui per adesso sappiamo fondamentalmente soltanto il nome e che l'Europa li vuole fare ma non si sa esattamente come saranno fatti dall'altro lato si rendono necessarie anche misure ne abbiamo già parlato un po' di volta insomma misure che mettano in discussione il dogma del debito e magari pensare appunto di cogliere questa occasione per ristrutturare o cancellare i debiti o parte dei debiti dei paesi più indebitati l'ipotesi in realtà non è così assurda come magari poteva sembrare qualche mese fa perché tant'è che l'altro ieri ne ha parlato alla CNN Cristalina Georgieva che sarebbe la managing director del Fondo Monetario Internazionale dicendo che è una misura di cui potrebbe esserci bisogno e che quindi non è da escludere il riferimento in quel caso specifico era soprattutto ai paesi africani ma generalmente quando si rompe un tabù si rompe e dopo diventa cioè fino a ieri si diceva che era impossibile cancellare i debiti se lo si inizia a fare poi diventa difficile anche giustificare che si fa per qualcuno ma per qualcun altro no quindi insomma sicuramente un argomento di cui abbiamo già parlato ma comunque interessante da tenere d'occhio e vedere come evolve la situazione allora parliamo di bambini ieri c'è stata la terza puntata di Matrix Dentro di Noi che è il nuovo format di Daniel Tarozzi su Italia che cambia che aveva come ospite Danilo Casertano che è un maestro outdoor e si parlava di bambini adolescenti e di come tra i tanti argomenti in realtà insomma diciamo bambini adolescenti era il leitmotiv però è stato declinato in vari modi uno di questi modi era appunto parlare di come questa situazione faccia emergere come siano considerati cittadini soprattutto nel nostro paese cittadini di serie B ma forse anche C o D o forse nemmeno cittadini ecco e Danilo raccontava anche di come altri paesi diversi ministri e primi ministri si siano rivolti direttamente ai bambini nei loro discorsi allora questa cosa mi ha incuriosito mi sono andato a cercare un po' di articoli che approfondiscono questo aspetto c'è un articolo su Green Meek che racconta i casi delle premier sono entrambe donne di Finlandia e Norvegia che hanno indetto delle conferenze stampa specifiche non tanto per parlare dei bambini ma proprio per parlare appunto ai bambini rispondendo quindi alle loro domande che erano domande tipo quando possiamo tornare a scuola posso andare a nuotare in estate cosa succederà con il nostro festival di primavera quando incontreremo i nostri nonni che mediamente sono probabilmente più interessanti delle domande di molti giornalisti e quindi insomma mentre da noi non si parla proprio dell'argomento in altri paesi se ne parla e non solo si parla di bambini ma si parla direttamente ai bambini che è una cosa molto bella molto civile ad ogni modo vi lascio gli articoli insomma sulla pagina della segna stampa e vi lascio anche la puntata di Matrix che se non l'avete ancora vista guardatela perché ne vale veramente la pena allora iniziamo a virare verso tematiche più ambientali Lanza riporta un'intervista del professor Fabrizio Pregliasco virologo dell'Università di Milano che lancia un'idea interessante uno dei problemi della fase 2 è che saranno gli spostamenti e in molti temono che la paura di tante persone di prendere i mezzi pubblici che sono inevitabilmente un luogo dove insomma di assembramento anche se saranno probabilmente non si vedranno perlomeno qua a Roma dove vivo io le scene di un tempo con le persone che ti spingevano dentro l'autobus pur di far chiudere le porte però comunque sono dei luoghi dove le persone stanno a un contatto sicuramente più stretto e quindi c'è un po' il timore che questa cosa incentivi un sacco l'utilizzo di auto private che inquinano creano traffico rendono l'aria più irrespirabile in città fra l'altro in un momento in cui c'è ancora una certa incertezza c'è l'ipotesi che l'inquinamento cittadino e le polveri sottili emesse dai gas di scarico delle automobili possano essere un veicolo per la diffusione del virus non è ancora una cosa sicura ma ci sono degli studi interessanti che ci indichano che sicuramente è una direzione da approfondire e quindi ecco non è proprio una buona idea riprendere tutti la nostra macchia e quindi questo virologo dell'Università di Milano propone che invece siano le bici il mezzo le biciclette il mezzo principale con cui appunto riprendere a muoversi in questa fase 2 perché tra l'altro ha una serie di vantaggi perché consente di ricominciare a fare sport in una fase in cui magari tanti di noi sono rimasti chiusi in casa quindi non andavano a correre non si muovevano molto meno del normale e sport che fa bene anche al nostro sistema immunitario e quindi appunto poi le biciclette ovviamente non inquinano tengono l'aria pulita e tutta questa cosa potrebbe essere in realtà spinta anche a livello istituzionale a diventare un po' la nuova norma come è successo per lo smart working che ha avuto una grossa spinta da questa situazione e tante aziende si sono attrezzate molto velocemente lo stesso potrebbe succedere per la mobilità su bici poi fra l'altro adesso ci sono anche le bici elettriche per chi ha più difficoltà magari a pedalare o comunque a fare attività fisica quindi ecco se lo vogliamo questo è sicuramente un'ipotesi interessante allora altra notizia interessante ci arriva invece dall'Australia ne parla oggi il Guardian e Australia che secondo una recente analisi potrebbe ottenere entro il 2040 il 90% della sua energia elettrica dalle rinnovabili senza che questo fra l'altro comporti un aumento nel prezzo dell'elettricità attualmente le politiche governative in realtà sono un po' diverse e sono un po' meno ambiziose e puntano all'obiettivo del 75% di energie da fonti rinnovabili entro il 2050 queste politiche però secondo il report potrebbero portare un aumento dei prezzi dell'energia dopo il 2030 aumento che invece potrebbe essere scongiurato se il governo facesse una politica appunto più ambiziosa per incoraggiare gli investimenti sulle rinnovabili che appunto potrebbe portare persino al raggiungimento di questa soglia del 90% di rinnovabili sul mix complessivo energetico del paese entro il 2040 quindi insomma è uno studio interessante perché c'è anche un ritorno economico tra l'altro e quindi anche un vantaggio per i cittadini per gli utenti del conto energetici dal passaggio dalla transizione verso i rinnovabili va bene siamo quasi a fine ho sporato di brutto va bene ultima notizia vi ricordate il documentario Planet of the Humans prodotto da Michael Moore di cui abbiamo parlato qualche giorno fa ecco sembra che abbia fatto incazzare un po' tutti e riporta sempre il Guardian che sono arrivate molte proteste e persino richieste ufficiali affinché venga rimosso da YouTube da parte sia di scienziati del clima sia di attivisti per l'ambiente perché sostengono che sia falso sia inutile sia dannoso e faccia più danni che altro fondamentalmente allora devo ammettere che vedendolo il dubbio è venuto un po' anche a me che non faccia un servizio così buono per il genere umano perché il messaggio che arriva alla fine di tutto è che non ci sono speranze che l'ambientalismo ha fallito miseramente che le rinnovabili sono inutili ed è anche vero che parte di quelle informazioni fornite sono delle mezze verità perché ad esempio è vero che non esiste un'energia che sia al 100% pulita e che le rinnovabili hanno comunque bisogno di materie prime non rinnovabili per essere prodotte e che necessitano almeno in parte dell'aiuto dei combustibili fossili per funzionare però se andiamo a pesare le due cose su una bilancia rinnovabili e combustibili fossili non non c'è paragone e questa cosa dal documentario ad esempio non emerge d'altra parte però molte cose che il documentario dice sui movimenti ambientalisti sono vere in realtà e censurarlo mi sembra un po' l'ennesima occasione persa per riflettere sui sui nostri errori sui errori dei movimenti ambientalisti e del pensiero ambientalista in generale ed è una cosa che in realtà non va così bene perché di errori ne sono stati fatti tanti quindi non lo so vi lascio con questo punto interrogativo e vi saluto vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di un mi rassegno sempre alle 10 sempre per 10 minuti e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto ciao